La società sappiamo tutti che ha delle idee di poter magari tentare di fare cose in grande e di tentare di vincere questo campionato, noi ci proveremo. Se succede che eventualmente troveremo qualche giocatore consono alle nostre esigenze, sicuramente la società non si dirà indietro. Purtroppo il mercato adesso è chiuso, bisogna aspettare diciamo a dicembre e poi unitamente insieme al mister e alla società valuteremo il da farsi. Se troviamo qualche under, diciamo per qualche giocatore importante, ma parliamo di 2006 comunque, qualche 2006, sicuramente se lo troviamo che possa fare al nostro caso la faremo. A Bali ci stiamo aspettando gli esami strumentali per vedere l'entità dell'infortunio, però in albergo l'ho visto che camminava bene, aveva un po' di dolore, ma non più di tanto. Non sa, stamattina mi sembra che ha avuto una piccola contrattura, un piccolo fastidio muscolare, però cosa di poco conto diciamo. Noi andiamo a giocare su qualsiasi campo per vincere, cioè non abbiamo remore, non siamo resti e ne tanto meno rinunciatari a portarci il risultato a casa. Io ripeto, con la squadra che ci ritroviamo tutti quanti, società, io allenatore, staff, sia una squadra importante, sia una squadra che... Tutto questo è un campionato molto anomalo, dove io fenomeni c'è, non è che ne vedo granché. Sono partite che tu puoi andare a vincere e perdere su qualsiasi campo. Voglio dire, è un campionato che secondo me, ripeto, sacrifici, lavoro, abbregazione, spirito, queste sono componenti che ti portano a fare risultati, a portarti quanto più in alto è possibile. Grazie a tutti.